Sulla situazione economica del Comune di Nuoro, alle prese con l'approvazione del bilancio consuntivo 2015, interviene con una nota Tore Lai, portavoce del Movimento 5 Stelle, che ricorda come l'amministrazione si sia dovuta confrontare fin dal 2014 col nuovo sistema contabile stabilito dal Decreto Legislativo numero 118 del 2011, una norma che prevede che laddove si siano formati dei saldi negativi, questi possano essere recuperati nel corso di 30 anni al massimo. Questa norma, scrive Lai, la possiamo definire l'ennesima sanatoria che la classe politica italiana si è concessa a danno dei cittadini, quindi è l'evidente dimostrazione del fallimento della classe politica di destra e di sinistra. Questa verifica, continua Lai, è stata effettuata anche dal Comune di Nuoro ed ha determinato un risultato negativo con un disavanzo di amministrazione di meno 16.513.104 euro, che dovrà essere ripianato nel corso di 30 anni. I Nuresi, quindi, ogni anno, scrive Lai, sono chiamati a ripianare un disavanzo di 550.436.000 euro, cifra che comporterà maggiori tasse o minori servizi. Questi numeri, sottolinea l'esponente del Movimento 5 Stelle, dimostrano che anche a Nuoro i bilanci non erano stati redatti secondo i principi di veridicità, trasparenza e prudenza. Il Movimento 5 Stelle evidenzia anche la gravità del comportamento dell'amministrazione Bianchi, che non vuole riconoscere questa eredità negativa lasciata in Uresi. Il Comune, con il rendiconto 2015, continua la nota, certifica infatti un indebitamento per prestiti avuti di 41.843.789 euro, in massima parte con la Cassa Depositi e Prestiti. Di questa situazione la maggioranza sudo ha fatto solo da certificatore fallimentare, ma come Movimento 5 Stelle, rileva Lai, ci saremmo aspettati una denuncia chiara sulla scarsa gestione che ha determinato la crisi. Nel rendiconto di bilancio 2015, che dovrà essere approvato nei prossimi giorni, risulta accertato, scrive Lai, un riconoscimento di debito fuori bilancio per un totale di 3.450.831 euro. È necessario fare le dovute analisi e riflessioni sui debiti fuori bilancio, conclude Lai. Sarebbe auspicabile tracciare una linea netta di cambiamento, cui il Movimento 5 Stelle darà certamente il proprio contributo costruttivo.